Ha fatto tappa anche lungo la costa ionica lucana la staffetta nautica Italia Unita dal mare, l'iniziativa organizzata dall'Astonautica per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il passaggio di consegne del testimone e la bandiera tricolore si è svolto a Policoro nel porto di Marinagri, tra i comandanti delle navi in arrivo da Taranto e in partenza per Cariati. E l'evento ha avuto un doppio significato perché è coinciso con il 2 giugno, festa della Repubblica. Attorno alle 12 e mezza la nave della marina militare la Seven Seas Uno Sloup 47 piedi è entrato nel porto Policoresi accompagnata da due motovedette della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri. Per il momento più atteso il passaggio del vessillo che continuerà il suo viaggio per i mali italiani fino all'aggiungimento della metafinale Roma. Numerose le autorità militari e civili che hanno preso parte alla manifestazione, tra queste il prefetto di Matera Francesco Monteleone che ha avuto il compito di consegnare la bandiera all'equipaggio in partenza, il questore di Matera Gianfranco Bernabei, l'assessore regionale alle infrastrutture Rosa Gentile, il presidente nazionale di astronautica Gianfranco Pontel e il sindaco di Policoro Nicola Lopatriello. Il clima di festa è stato animato da bandiere tricolori e dell'esibizione della banda di Valsini e del coro Esperia di Novasiri che oltre all'inno nazionale hanno eseguito brani della tradizione patriottica come il Va Pensiero. La manifestazione nazionale prevede due staffette, una adriatica partita da Trieste il 14 maggio e una tirrenica partita da Imperia il 22 maggio che consegneranno lungo tutta la costa italiana, isole comprese, il testimone e la bandiera italiana da imbarcazione a imbarcazione per tutte le 70 tappe. Si ricongiungeranno a Roma il 26 giugno con la consegna del testimone al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il 2 giugno la staffetta nautica ha toccato la Basilicata Ionica con una breve sosta al porto degli Argonauti di Marina di Pisticci e poi l'arrivo a Policoro. Il prossimo 16 giugno le barche saranno nuovamente in Lucania quando si toccherà il porto di Maratea poco prima dell'arrivo alla meta finale.